I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un ventenne, Kevin Fiore, per l'omicidio di Marcello Tortorici, operaio cinquantenne, raggiunto da una coltellata fatale venerdì sera a San Domenico. Per rissa gravata sono stati arrestati Massimo Tortorici, 45 anni, Roberto Millaci, 50, Michele Fiore, 30 e Salvatore Fiore, 53. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per tutti. Solo Roberto Millaci, ancora in osservazione presso l'ospedale Sant'Elia, resterà ricoverato fino alla sua dimissione in stato d'arresto. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica, continueranno ad acquisire elementi utili per fare completa luce sull'accaduto. Nelle indagini si è tenuto conto anche di quanto emerso dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuto il fatto, alla vista di diversi passanti che hanno cercato in vano di prestare soccorso alla vittima.